Si invita Codesta, amministrazione comunale, a proseguire nell'iniziativa della realizzazione della nuova sede del commissariato. Con queste parole il Ministero dell'Interno, con una lettera indirizzata al sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti, comunica di fatto la permanenza nella città ducale del commissariato di polizia. Si chiude così una querel durata mesi con il comune di Roseto degli Abruzzi, che sembrava quasi certo del trasferimento del commissariato nella cittadina Rivierasca. Se il Ministero ha fatto queste scelte vedremo perché le ha fatte, se espliciterà le ragioni. Da parte nostra la coscienza tranquilla di aver fatto come Consiglio Comunale, come Giunta, come Sindaco, tutto il necessario per cercare di portare questo presidio di pubblica sicurezza sulla costa. È una querel che va avanti da decenni. Se anche questa volta non si realizzerà questo dislocamento del commissariato da Atri sulla costa, sarà una sconfitta, secondo me, per tutta la costa terramana. Perché si ignora, in sostanza, lo sviluppo demografico delle sette cittadine della costa, si ignora quindi le necessità che da questo punto di vista derivano per la pubblica sicurezza sulla costa ed è certamente, io esprimo tutto il mio rammarico per questo. Il Ministero avrà le sue ragioni, ce le espliciterà e le commenteremo. Nessun rimprovero per il mio ente che ha fatto il massimo a fronte di una richiesta di disponibilità che ci era pervenuta dal questore. Quello che avevamo lo abbiamo messo in gioco, abbiamo anche destinato un'area per il futuro, come sede definitiva di questo commissariato, in questo contesto di più non potevamo fare. Ripeto, sarebbe ove confermata, ma credo che se il Sindaco di Atri lo ha comunicato, avrà le buone ragioni per farlo e anche un'ulteriore occasione persa per il Dipartimento della pubblica sicurezza di dare un presidio alla costa teramana, non tanto e non solo a Roseto, ma a tutta la costa, a tutte le sette sorelle della costa teramana.